Dario I di Persia, noto anche come Dario il Grande, è stato un re persiano che ha regnato dal 522 anno corrente al 486 anno corrente. Figlio di Staspe, Dario apparteneva alla dinastia degli Achemenidi. Durante il suo regno, ha portato l'impero persiano a una grandezza senza precedenti. L'avvento al potere. Dario salì al trono alla morte di Cambisse II nel 522 anno corrente. In quel momento, Dario ricopriva il ruolo di ufficiale negli immortali, la famosa guardia imperiale persiana. Con l'appoggio dell'aristocrazia e dei suoi commilitoni, riuscì ad eliminare gli usurpatori e a stabilire la sua legittimità al trono. La dinastia di Dario, chiamata Achemenide, era parte della nobiltà persiana. Politica interna Dario I fu il sovrano che diede all'enorme impero persiano, fondato da Ciro II il Grande, un assetto stabile e centralizzato. Rafforzò l'organizzazione interna e ampliò i confini, rendendo così più sicuri i territori dell'impero, che si estendevano sempre più verso occidente. Edilizia. Dario fece spostare la capitale da Pasargade a Persepoli, abbellendola e arricchendola con giardini e palazzi. Persepoli divenne una stupenda città di arte, amministrata con giustizia. Il rilievo rupestre di Dario a Beistun in Iran testimonia la grandezza del suo regno. Economia e commercio. Sotto il suo governo, l'economia persiana prosperò grazie a una rete di strade ben sviluppata e al commercio con altre civiltà. Dario promosse anche la standardizzazione delle monete, semplificando gli scambi commerciali. Religione. Dario fu un sostenitore del zoroastrismo, la religione predominante nell'impero persiano. Contribuì alla costruzione di templi e promosse la tolleranza religiosa. Campagne militari in Asia e in Europa. Dario condusse diverse campagne militari per espandere i confini dell'impero. Le sue conquiste si estesero dall'Asia centrale all'Europa orientale. Tuttavia, non riuscì a sottomettere la Grecia, nonostante le guerre contro gli Ateniesi e gli Spartani. Eredità. Dario I è ricordato come uno dei più grandi sovrani della storia persiana. La sua abilità di governo, la sua visione e la sua capacità di gestire un vasto impero lo rendono un personaggio storico di grande rilievo.